Si è impiccato al cancello di una scuola, l'ha fatto con i lacci delle scarpe da ginnastica, un gesto terribile, la vittima è un 24enne di nazionalità rumena. Il dramma si è consumato a Montesarchio, probabilmente nella notte. Il giovane che lavorava alle dipendenze di un'azienda nel settore rifiuti non era rientrato a casa ieri sera. Da allora nessuno aveva più avuto sue notizie, né lo aveva visto. Lo hanno trovato questa mattina, una scena agghiacciante. Alcuni automobilisti transitando nella zona se la sono trovata dinanzi agli occhi. Non c'era più nulla da fare, inutili i soccorsi, ogni tentativo di rinanimarlo. I carabinieri hanno avviato le indagini, il sostituto procuratore Emiliano Lapalorcia e il medico legale Monica Fonzo hanno operato il sopralluogo. Poi la salma è stata trasferita all'obitorio del rumo per la visita esterna. Nessun biglietto, nessuna spiegazione al momento per una tragedia, l'ennesima nella nostra provincia nel corso dell'estate. La scelta di farla finita, la disperazione che prende il sopravvento e ti toglie il fiato, per sempre.